ecco la jugoslavia al lavoro abbiamo qualche minuto di ritardo la competizione avrebbe già dovuto essere giunta al termine da 4 minuti circa ma è un ritardo relativo e speriamo che ci sia possibile di presentare dopo la Jugoslavia anche il Giappone ecco le pronte le Jugoslave e sono partite grazie 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 un esercizio scolto da nutritissimi applausi da parte del pubblico come sarebbe potuto essere al primegno un esercizio che in tali momenti ci ha dato un'impressione di imprecisione di